Torna la pioggia e alcune località del Cilento si trovano a fare i conti con i danni causati dal maltempo e dagli allagamenti. La grande quantità di acqua piovana di queste ultime ore ha determinato notevoli disagi nella città di Sapri, già colpita nel mese di dicembre da allagamenti in diverse zone. In via Kennedy ritorna la paura a causa dei canali che ancora una volta sono straripati, difficoltà anche nella piazzetta Padre Pio e in altre zone della città, molti dunque i detriti portati dalle piogge rinvenuti lungo le carreggiate in base nuovamente dal fango. Necessaria infatti è stata anche la presenza degli uomini della protezione civile e i vigili del fuoco che hanno effettuato le operazioni di pulizia delle strade sul posto presente anche il sindaco Antonio Gentile per monitorare in tempo reale tutto ciò che sta accadendo. Disagi questa mattina a Caprioli, frazione del comune di Pisciotta, dove una frana ha invaso la carreggiata. Sul posto i tecnici dell'ANAS dei fatti è stato informato anche il primo cittadino di Pisciotta, Ettore Liguori, e il dirigente della provincia di Salerno, Domenico Aranesi.